Ci sono diversi parlamentari campani nella classifica dei politici che godono delle pensioni d'oro, i cosiddetti vitalizi che ora l'Inps vorrebbe dimezzare. Privileggi finora intoccabili per i big della politica, tra cui spicca l'ex Presidente del Consiglio, Ciria Codemita, con un assegno mensile di 7.000 euro netti nella top dei vitalizi degli ex parlamentari, anche l'ex Presidente del Senato, Nicola Mancino, e l'ex Ministro, Clemente Mastella, con 6.940 euro netti. Ci sono molti ex democristiani nell'elenco, superano i 6.000 euro anche Giuseppe Gargani e Gerardo Bianco, che staccano di poco l'ex Sindaco di Napoli, Rosa Russo Glierbolino. I partiti si interrogano naturalmente sui tagli ai costi della politica, ma devono fare i conti anche con le diatribe interne. Nel Partito Democratico è scoppiato il caso Avellino, dove anche la Presidente del Consiglio regionale, Rosetta D'Amelio, si è schierata tra i dissidenti che vogliono la testa del segretario provinciale, Carmine De Blasio. Lui, in una intervista a Otto Channel, accusa che c'è chi vuole mettere le mani sul partito. Io sono sorpreso soprattutto dagli atteggiamenti di chi ha decenni e decenni di esperienza e di militanza nel partito. Perché noi non possiamo immaginare che nel momento in cui dovremmo tutti, e soprattutto chi ha più responsabilità, aiutare questo partito che oggi ha la condizione di dimostrare nel concreto se sa dare le risposte ai cittadini, no, invece buttiamola in cacciara. Facciamo la battaglia per affermare qua chi comanda. Direttore, il punto è questo. Qua è un'operazione molto più complessa, ma voi veramente credete che il problema sia togliere o meno De Blasio? La questione è molto più sofisticata dal punto di vista politico. E allora noi dovremmo a questo punto dire che come si faceva 30-40 anni fa nei piccoli paesi nostri. Io ho vinto, io comando. Ma questa è la politica? Questa è la politica di Renzi? Nel Partito Democratico di Napoli c'è invece ancora chi immagina di poter sbarrare la strada al ritorno dell'ex sindaco Antonio Bassolino rinunciando alle primarie. L'ultimo nome bruciato nel toto candidati è quello del direttore del Tg1 Mario Orfeo che aveva già rinunciato alla sfida per le regionali ipotesi che dunque ora tramonta anche per il comune. Nel centrodestra invece Gianni Lettieri prepara la kermesse di fine mese nel corso della quale radunerà tutti i movimenti civici che lo sostengono e presenterà uno studio su Napoli. Ma dal punto di vista della coalizione resta il rebus sul ruolo di Udc e Ncd che stanno dialogando con il Partito Democratico dopo la collaborazione avviata nella città metropolitana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.